Recapitiamo sempre tantissimi inviti ma a questo ci teniamo in particolare perché la stand-up comedy Made in Italy arriva qui in Puglia e arriva con lui, RWM Non ha portato la colomba ma sono comunque contento di avere Francesco Fanucchi qui a Televari Social Night Benvenuto Grazie mille, grazie mille Senza colomba? Senza colomba Confermi? Ero tentato però poi ho detto ma no dai Vabbè ma da Firenze perché la colomba? Avrebbe dovuto portare qualche... La bistecca Ah la bistecca la mangio, la mangio, la mangio Dobbiamo recapitare un invito per un tuo spettacolo domani sera Yes Dove, quando, perché, per chi? Allora il Garage Sound a Bari è uno spettacolo comico Diciamo il mio primo spettacolo comico si chiama Standard Comedy Show Ed è un one man show quindi saranno un'ora di spettacolo E si presume anche di risate perché è uno spettacolo comico E quindi forse dovrebbe anche far ridere Come quando l'horror fa paura Esatto, esatto, è il genere È il genere, quindi è comico, quindi dovrebbe far ridere Stiamo parlando tantissimo di traduzioni Ormai l'inglese e gli inglesismi sembrano quasi essere banditi Hai preparato una traduzione di stand-up comedy? Allora sì, però non è che ci passi benissimo Perché si chiama stand-up comedy letteralmente dall'inglese significa comicità fatta in piedi Quindi diciamo che è un po' Si suona male Quindi la lasciamo stand-up comedy e basta E chissene E chissene E se ci prendiamo anche questa multa Massi Asgressivi Vai, rock and roll Qual è lo stato di salute della stand-up comedy? Inizia forse ad essere un po' abusata la parola Raccontaci il tuo punto di vista Ma allora Lo stato di salute della stand-up comedy secondo me è molto buono Almeno oggi in Italia è un linguaggio comico nuovo Che si sta diffondendo molto rapidamente Parole povere Un comico su un palco, microfono in mano Si racconta senza quarta parete Quindi non c'è un personaggio che interpreta Ma ti racconti per quello che sei E racconti anche il tuo punto di vista sul mondo E nato in America Ora sta diciamo spopolando in Italia Dopo 50 anni ci siamo arrivati E direi che sta bene Perché ci sono moltissime realtà in tutta Italia Quindi non è soltanto un fenomeno di moda A Milano o a Roma Ma è diffuso appunto Anche in Puglia A Bari Come in Toscana Insomma è una buona cosa Secondo me E anche una stand-up comedy Una commedia a chilometro zero Dove la reazione del pubblico È quasi un tutt'uno Con la tua performance Assolutamente Quanto ti incazzi quando non ridono? No, non è che ti incazzi In realtà muori dentro Ah, muori dentro Vai avanti Finta di niente Però la rabbia non c'è quasi mai Non c'è quasi mai A me lo puoi dire Una volta mi è successo Una volta sola Lì mi sono arrabbiato Perché chiedo De cazzo questa è bella Questa è una bella battuta Mi andavi orgogliosissimo Mannaggia Mi è toccato toglia Perché non faceva dire Però no Per il resto Dire di massima È bello perché Apparentemente è un monologo Dove te parli e racconti Però in realtà è un dialogo Perché la reazione continua del pubblico Come anche detto Ti dà sempre un tipo di risposta E quindi in qualche modo cambia Ogni volta che vai sul palco Il mio pezzo Un comico che fa stand up comedy appunto Quanto deve fare attenzione Al Politically Correct Nel 2023? Ma allora Sui social molto Perché sui social C'è un pubblico Molto più ampio E anche molto più suscettibile Mentre live Personalmente non ho mai avuto problemi O riscontato A caso di persone offese Perché si capisce Qual è il contesto Chi viene alla serata Sa Per quale motivo Si viene alla serata Cioè Per lidere È una zona franca Il palco Quindi si dicono anche Le peggio cose Ciò non vuol dire Che uno le pensi realmente Fuori dal palco Anche perché sarei uno psicopatico Che poi lo sono Lo sono Però no sto scherzando Però capito Quindi diciamo che Questo gioco Viene rispettato di più Nel live Invece sui social Magari un reel Un elemento Va sul magico mondo Degli algoritmi E viene frainteso E può anche essere Decontestualizzato E frainteso Però a livello di tempistiche Si sposa molto bene La stand up Con i tempi dei social Dei reel Si tanto Tanto perché appunto Vabbè in realtà Il format della stand up Prevede anche un approfondimento Quindi Un pubblico rimane A vedere uno spettacolo Per più di 50 secondi Cioè spero Se no È un pessimo segno Solo 50 secondi Fa swipe Però capito Di solito La fortuna è che Il ritmo Di battuta È molto alto Nella stand up comedy Questo si sposa bene Con il ritmo Se sui social Che è molto alto Quindi la concentrazione Si perde facilmente Tu Ho visitato Il tuo profilo Addirittura LinkedIn Oh mamma Sì Hai una grande esperienza Nel mondo dei social Sì Oppure È successo È finto il tuo profilo È successo No è vero È vero Ah io sul LinkedIn Ho scritto di aver condotto Sanremo Ma non è vero Davvero Tutto vero No io non l'ho scritto Che ho condotto Sanremo Però per il resto Per il resto è vero Sì più o meno è vero Com'è il tuo rapporto Con i social Ma abbastanza buono direi Nel senso che Prima l'ho studiato Perché non è che dico Voglio fare il comico Di lavoro Cioè una roba che Nasce di maniera graduale Se poi imposto Come professione Però inizialmente Volevo appunto Lavorare nel mondo Della comunicazione Dei social Così E ho iniziato prima A lavorare per Un'agenzia pubblicitaria A Milano E poi nel mentre Si è affiancato Via via sempre più forte Questo mondo Che è il mondo Di dire sciocchezze Su un palco Che però poi si sposa bene Comunque Con il mondo dei social Perché Per la parte promozionale Per farsi conoscere E anche per coltivare Un pubblico Aiuta tanto Aiuta tanto Avere Insomma Un profilo attivo Ora ti voglio Super Politically Scorret Ok Vieni da una delle città Più instagrammate D'Italia Sì Quanto ti sei rotto Le scatole Delle foto Dei turisti Che reggono La torre di Pisa E qual è la più brutta Che tu abbia mai visto Allora io ci tengo A fare una specifica Vai boh vai Perché Nel senso Io non sono proprio Di Pisa Vengo da Lucca E c'è questo No a me non me ne frega niente Però questo Campanile Cioè se a casa Sanno che sono di Pisa Mi diseredano Tipo Quindi io lo dico Solo di Lucca Però amo tantissimo Pisa Allo stesso tempo Allora Sai cos'è che è divertente Secondo me Dere foto così È vederli dal vivo Perché in foto Sembrano tutti fantastici Perché appunto Sono presi molto bene Però dal vivo Siamo dei pazzi Che stanno così Nelle mani Che fanno il mimo E non ha minimamente senso E invece Solo sui social Ha questo senso Solo in foto Alcune volte Alcune volte Ma non sempre Ma i giapponesi Secondo te Hanno ancora il primato Delle foto più belle Delle foto più numerose Sono tantissime ovunque E fanno sempre Lo stesso tipo di foto Non voglio essere razzista Con questo intervento Però penso di Essere lo Stato E lo diciamo I giapponesi che ci seguono In streaming Su telebari.it Sempre numerosissimi Numerosissimi Adesso Immaginiamoci Una musica Cupa E triste Perché voglio affrontare Con te Una tematica Molto delicata Il tuo rapporto Con i bambini Ma prima Vediamo questo speciale Rvm No E non ho un buon rapporto Con me stesso E lo dimostra il fatto Che non ho un buon rapporto Con i bambini Questo è evidente Perché i bambini Sono sinceri E stupidi E li odio Profondamente Tutti Tutti Solti volte Che passo per strada Che cos'è quel signore Che cazzo è il signore Cazzo è il signore Che vuoi merda Quanti esposti Quante ribellioni Ci sono state Dalle mamme pancine Che ci seguono Tantissimi Sono tutte arrabbiate I bambini C'è una cosa Meravigliosa Sì così E vabbè è successo Però in realtà Non è Secondo me Provo a difendermi Perché mi stanno ancora cercando Non sappiamo dove abiti Tipo questi messaggi In realtà non è che L'odio verso i bambini La battuta è più Sul modo in cui vengo percepito L'odio Su come vengo percepito E poi se no Mi stanno simpatici I bambini Obiettivo Però è più su quella cosa Non ne hai trovato manco uno simpatico Sì dai miei cuginetti Sono simpatici Beh spezziamone Sì sì Perché li posso bullizzare Sono autorizzato a farlo E quindi è proprio piacevole E quanto sono piacevoli I gender revealing party Ah sì È bellissimo È bellissimo Poi c'era un mio amico Che me lo diceva Che è anche comico Anche lui E Roberto Annelli Molto bravo E lui mi raccontava Che secondo lui Non hanno senso Perché comunque Cosa fai Se è maschio Non festeggi Cioè festeggi in ogni caso Cioè qualunque sia l'ora È sempre una festa Quindi Vabbè perché si presuppone Che i genitori Non conoscano Il sesso del bambino Fino a che non aprono Questo vaso di Pandora Da cui escono Ma in entrambi i casi Scattere la festa Cioè Eh certo Certo Sì sì A meno che non siate Dei mostri Marina vengo da te Per le tue curiosità No perché Prima Tu hai detto Che non sei sempre Sincero sul palco Nel senso Che comunque Magari Che ne so Parli di un tema X Però magari Non lo pensi davvero Invece Sta storia dei bambini È vera veramente Nì Nel senso Che l'odio È un sentimento Diciamo Che non è che provi Quotidianamente Verso i minorenni Poverini No Non c'è questa cosa qui È ovvio che È tutto molto edulcorato Cioè Te porti magari sul palco Una versione di te Che è reale Però È un'esperienza Che è altrettanto reale Perché altrimenti Secondo me Il pubblico lo sente Quando stai dicendo Una cosa Totalmente distante Dalla tua vera persona Dalla tua vera esperienza Però allo stesso tempo La edulcori Perché vuoi arrivare All'effetto comico E quindi alla risata E quindi cerchi sempre Il paradosso Che poi ti rende Appunto Anche magari Odiato appunto Dalle mamme pancine O da altri gruppi Di persone Però È evidente Che lo fai Soltanto a fini comici Non a fini Come dire Dio Istigazione all'odio Perché me l'hanno pure Segnalato il video È vero Per istigazione all'odio Instagram Perché per le segnalazioni Ma Poi ho detto Guardate raga Non è vero Che E infatti poi L'hanno rimesso Comedy Eh sì Teoria Ok Se domani Ti affidassero Il regno Dell'intelligenza artificiale Tu Che cosa combineresti Ma che sia una domandona È chiaro Aspetta ci devo pensare Però ti avessero preparato I domandoni Perché qui A Telebari Social Light Facciamo solo domandoni Allora In maniera molto egocentrica Appunto Bravo Non mi deludere Esatto In maniera molto egocentrica Bandirei Le segnalazioni A reel comici Perché appunto Bisogna comprendere Qual è il contesto Se vado a un comizio E dico Ah io odio i bambini Allora lì magari È diverso Perché c'è una responsabilità diversa Ma se vai su un palco Per far ridere un pubblico È ovvio che dice anche cose Orribili Ma non le pensi realmente Lo dice a fine Umoristico E questa cosa Tante volte sui social Non viene Percepita bene E poi Fino a qui Hai portato solo acqua Al tuo mondino Sì esatto E' egocentricissimo Ma Vabbè Qual è un altro tema Che scalda gli animi E che Ti piace portare sul palco Allora Ci sono alcune tematiche Che sono molto di sinistra E che fanno arrabbiare Un certo tipo di pubblico E altre tematiche Che sono Più diciamo Che toccano più temi della destra E fanno arrabbiare il pubblico Quindi Tutti e due gli elementi Che Magari Su cui A me piace scherzare Ovviamente Perché Non ho né la presunzione Di prendermi sul serio Ma neanche di prendere Gli altri sul serio E E questo diciamo Che può Suscitare Delle polemiche Però In linea di massima Devo dire che C'è molta sportività Cioè A parte Qualche episodi Appunto Come è successo Sui social Però vedo che Invece c'è Tante persone Prese bene E questa è la cosa Che mi dà più soddisfazione Specialmente live E' un bellissimo Sono delle belle soddisfazioni Quindi in realtà Va buono Come viene preso invece La tematica Dello scambio di persona Ah sì Perché Perché Mi succedeva Di Paranoiarmi Tempo fa Sulla paura Di essere scambiato Per qualcun altro Paranoiarmi Sono rimasto E molto cioè Ah sì Bellissimo Scusami Devo Sono toscano Ma il mio italiano È veramente pessimo Paranoiati quanto vuoi Eh vabbè Però capito Magari qualcuno M'osserva Io penso Dice ma non è che mi ha preso Per un'altra persona Penso che mi conosca E in realtà non mi conosce Che poi dico C'ho una fisonomia Piuttosto particolare Cioè è difficile Che uno mi scambi Per qualcun altro Eppure Eppure no Non succede Solo nella mia testa Succede Ah ecco Solo nella mia testa Vediamo questa clip Sul tema Tutti E poi mi partono Le paranoie Perché Io quando vengo osservato Mi viene la paranoia Di essere scambiato Per qualcun altro A parte che Non è così semplice Insomma Cioè non è che Sono Luigi Di Maio Che sembra Il giocatore Predefinito a FIFA Attacco 50 Dipende 50 Congiuntivo Ordenzi E adesso il fan club Di Di Maio Infuriatissimi 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 Dobbiamo recapitare Questo invito A domani Al Garage Sa A chi Lo recapitiamo A tutte le persone Che hanno voglia Di farsi Una risata E che hanno voglia Di non prendersi Sul serio Di non prendere Gli altri Sul serio E quindi Di festeggiare In qualche modo Ci sarà tanta scorrettezza Sì Sì E dove sei giusta Sì dove sei giusta Un pizzico Zuccheroso Ma non neanche troppo Noi ti ringraziamo Per essere venuto Qui a trovarci Spero Che ci siamo Comportati bene Benissimo Grazie a voi Di non averti Imparanoiato troppo Abbiamo studiato Fin Anche il profilo Linkedin Quindi Non puoi proprio dire Un cavolo Complimenti Complimenti Ma Ricola A noi non resta Che dare appuntamento Quando A domani Mi raccomando Sempre canale 17 20 a 30 Telebari Social Night A domani Grazie per averci seguito Questo programma è stato presentato da Supermercati Doc e Famila Superstore Conserva Trasporti e logistica City Moda Seguici sulla nostra pagina Instagram City Moda Italia oppure su Facebook Banca Popolare di Puglia e Basilicata Acmei Grazie a tutti Grazie a tutti.